Fiamme nella notte nel deposito dei mezzi della società Gialplast, impegnata nella raccolta dei rifiuti in diversi comuni del Salento come Gallipoli. L'inferno di fuoco ha interessato una decina di mezzi autocompattatori. In località Contrada, Masseria Bianca, Gallipoli, si sono recati i vigili del fuoco dei locali di staccamento con due autobotti. A loro arrivo sette dei mezzi parcheggiati erano stati completamente avvolti dalle fiamme e distrutti, mentre altri tre sono stati danneggiati per il raggiamento termico. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e i danni recati ammontano circa 500.000 euro. Si indaga per comprendere con esattezza le cause dell'incendio. Oltre che a Schiross e al sopralluogo hanno preso parte anche i carabinieri della compagnia di Gallipoli, ai quali sono state affidate le indagini. Non è la prima volta che si verificano episodi incendiari e i danni della stessa ditta. Lo scorso 11 novembre le lingue di fuoco distrussero quattro autocompattatori per la raccolta di rifiuti e danneggiarono un quinto mezzo nel deposito di Taviano. Il sospetto è che anche questa volta le fiamme siano di origine dolosa.